Il responsabile del centro ascolto donna. Il centro ascolto donna è un centro antiviolenza, accreditato al 1522, che opera sul territorio salernitano da circa 17 anni. Il convegno che oggi presentiamo insieme ad altre associazioni, mandem al diritti e legalità a voce alta Salerno e alla Camera per i minori di Salerno al senso di mettere intorno ad un tavolo le istituzioni e gli operatori che continuamente si devono scontrare con le criticità che affrontano con le donne che denunciano le violenze. E speriamo che alla termine, dopo una giornata di lavori e di illustri relatori, tante domande possono essere oggetto anche di risposte. Grazie alle associazioni, questa mattina in provincia, trattiamo il tema della violenza sulle donne, ma soprattutto su come aiutare e accompagnare le donne dal momento dopo la denuncia. Un momento importante perché vede la partecipazione di tanti attori, soprattutto di una rete di istituzioni, che hanno il compito e il dovere di dover accompagnare le donne. Dobbiamo creare sempre nuove condizioni affinché le donne vengano messe in sicurezza.